Una persona che è l'ITIS studia elettrotecnica sicuramente ha una mentalità adatta a usare Arduino. Io con Arduino ho pensato di fare tante cose, da un sistema per innaffiare l'orto, misurando in vari punti l'umidità che c'è nell'acqua e attivando vari sistemi elettrovalvole, a un controllo di trazione su una macchinina radiocomandata che stavo costruendo un po' di mesi fa con un motore a scoppio. Dovei dirne un altro, sto pensando. Questo è un kit della Brown che facevano negli anni 60-70, che si chiama Electron, che aveva fatto Brown per insegnare essenzialmente ai bambini come funzionava l'elettronica, a fare dei circuiti elettronici. Tutti i componenti sono messi dentro in questi cubetti di plastica magnetici, per cui il kit ha questa base d'acciaio dove magnetizzi le cose e poi le attacchi. L'altra cosa che secondo me ha fatto in maniera un po' diciamo così subliminale è che ha un po' stimolato anche la mia passione per il design, perché alla fine questo oggetto è stato disegnato da Dieter Rams, che è questo designer tedesco che negli anni 60-70 era il designer di Brown. Credo che Arduino cerca di stare perlomeno nelle leggi sulla semplicità, l'idea di costruire e poi capire. Io avevo preso questa abitudine di smontare tutto. A un certo punto credo che abbiano deciso che era una buona idea di regalarmi una cosa per costruire. MacGyver, raggi laser che si vedevano in supercar, li volevo anch'io. Quindi quello di cui avevo bisogno lo trovavo in casa e lo cannibalizzavo brutalmente. C'è Arduino e un accelerometro posto proprio qui sotto. Un sensore di tocco. Appunto questo funziona da tastiera senza tasti. Quindi questo, combinato al movimento, combinato a tutte le altre variabili, crea un suono abbastanza organico. L'idea è nata da un manico di scopa. Battevo il tempo con le dita sopra il manico e dicevo come sarebbe bello se questo manico rispondesse in modo sonoro. Faccio un po' di ricerche su internet e capisco subito che è la facilità di programmare Arduino, quello che stavo cercando. In verità, l'illuminazione è quello che ho cercato sin da quando ero bambino. Quindi perché no? Consulti la rete e trovi quasi sempre qualcuno che ha avuto prima di te lo stesso problema o un problema simile. Questi sono i makers. Le persone che non si accontentano e vogliono oltrepassare questo limite e oltre a farlo vogliono anche condividere la modalità in cui ci sono riusciti. Una scheda grande come un pacchetto di sigarette, all'interno troviamo un microcontrollore che è appunto in parole povere un computerino molto limitato, molto semplice, che però fa molto bene il suo dovere. Il computer prende le decisioni in base a quello che succede nel mondo esterno e attua il tutto attraverso i pini fuori. Attraverso il processing, che è il linguaggio che usa l'Arduino, per dire A è uguale B più C, io basta che scriva A è uguale B più C. La ZX Spectrum fa parte di quel mondo della rivoluzione degli home computer inglesi dei primi anni Ottanta. Questi computer qui era chiaro che tu li prendevi e andavano programmati. L'Arduino quando ti arriva tu lo sai chiaramente che lo devi programmare, che non è una cosa che tu compri e poi che ne so, scarichi da Inter, dai programmi e li carichi. Scarichi il sorgente, chiaro non lo copi più a mano santa dalla rivista inglese, la copi da un sito, però comunque dentro nel tuo ambiente di Arduino vedi il sorgente del programma, schiacci e Arduino lo trasforma e lo carica nella scheda. Non esiste la fabbrica Arduino, perché non è che c'è proprio il sistema con il famoso tetto, quello a triangoli che si vede nei cartelli stradali. Quelle fabbriche lì sono un po' sparite e essenzialmente c'è questo signore che si chiama Pruzzese, che è il padrone di questa azienda, che lui vive in circuito stampato quasi come se fosse una forma d'arte. Poi ci tiene per esempio ad avere tutte le macchine che ha, sono tutte italiane. La prima volta che ho sentito parlare dell'Arduino sembrava quasi un gioco e venivano da me per fare dei piccoli campioni che ogni settimana cambiavano. Ha portato dei programmi produttivi da paura. Di fronte a questo tipo di vendite che crescevano, Arduino stesso ha pensato, nella persona di Gianluca Martino, a lavorare sia sulla funzionalità che anche sulla bellezza estetica della scheda. Loro erano partiti con un blu non definito e a noi tutte le volte veniva un blu sempre diverso l'uno dall'altro. Per fare il colore ce mi ha messo un anno. Quando sono venuto qui mi è venuto in mente che probabilmente il canavese attraverso Livetti si potesse riprendere. Ma questo non può succedere. L'Italia ha avuto una serie di occasioni, anche grazie all'Olivetti, che negli anni 50 decidono di fare il loro computer, l'Elea, che è il primo computer fatto da un designer. Una delle storie che mi ha colpito mentre ero a Ivrea è questa storia del programma 101. Ho avuto l'occasione di incontrare a Ivrea i simpatici vecchietti molto in gamba che hanno lavorato su questo progetto e loro si sono messi a progettare un computer che stava su una scrivania. A un certo punto muore Adriano Olivetti e quelli che prendono il controllo dell'Olivetti decidono che non può più fare i computer. Rimettano a posto l'ex centro ricerca e sviluppo dell'Olivetti, che è un edificio bellissimo, blu, insomma una casa un po' iconica. E lì dentro ci mettono una scuola di interaction design. Un mio amico mi ha raccontato che c'era quest'istituto a Ivrea che cercava un professore, mi hanno invitato, alla direttrice non andavo bene, però gli servivo perché sono rimasto due settimane, poi dopo due settimane un mese, poi due mesi e poi due anni. Gli studenti ti aspettavano alle 11 di sera e ti dicevano no, non andare, vieni con noi che abbiamo da finire un progetto e ti tenevano lì fra le due di notte. Durante una di queste sessioni abbiamo cominciato a creare Arduino con l'idea di fare anche una cosa open source. In qualche maniera gli studenti dovevano essere in grado di utilizzare la tecnologia come strumento creativo per fare prototipi, per costruire cose. Perché all'inizio abbiamo usato degli strumenti commerciali trovati sul mercato che però erano tendenzialmente per ingegneri, costavano parecchio. Perché quando un circuito costa 70 euro lo studente non ne compra 10, ne compra uno, poi lo usa in maniera un po' limitata. Dopo una serie di sperimentazioni a un certo punto abbiamo prodotto questo oggetto qui, si chiama Programma 2003, è un po' il nonno di Arduino. Da questo in realtà abbiamo deciso due cose che volevamo che fosse blu per differenziare da tutti gli altri circuiti elettronici che non sono tutti verdi quasi. E poi abbiamo deciso di dargli questa forma un po' strana giusto per dargli una forma che fosse riconoscibile. Che funzione ha? Ha la funzione di essere Arduino. Questa qui era già stata prodotta in almeno 2000 esemplari. Arduino 10.000 perché questo modello qui poi rifatto n volte avevano raggiunto le 10.000 unità. Hanno cominciato a produrre dei progetti bellissimi, ben documentati, messi online e questo ha generato in qualche maniera questo effetto in cui ha cominciato a diventare una cosa interessante. Prima sono andato a vedere, a conoscere un po' di ragazzi che qua in zona facevano girare dei quadricotteri e lì mi hanno fatto provare a farne sollevare uno. Una volta costruito il mio a quel punto mi sono potuto sbizzarrire distruggendolo 4-5 volte. Io sono un informatico e quindi non avendo competenze ad hoc di elettronica quando ho cominciato a fare questi lavori mi serviva una piattaforma semplice con cui poter cominciare. Quindi Arduino è stato l'ideale in quanto nel giro di un mese ero già lì che prototipavo e lavoravo su queste cose qua. È una scheda che ho disegnato io, l'abbiamo chiamata FRIIMU ed è praticamente una scheda che contiene accelerometri, giroscopi, magnetometri. Quindi io ho un sistema per appunto tracciare che cosa succede a questa scheda in tempo reale. Questo mondo dei quadricotteri quando ho incominciato a lavorare alla scheda mi era totalmente sconosciuto. E poi la gente visitando il mio sito che mi ha detto ma perché non monti questa scheda su un quadricottero? Io ho detto ah! Quando tu metti su internet un progetto tipo per esempio questa FRIIMU qua, la corredi con tutta una serie di librerie semplici da utilizzare, la dai in mano alle persone e davvero non sai che cosa possano riuscire a tirarci fuori. C'era molto attrito, molta negatività, molte critiche. FRIIMU che dai fonti di Arduino dicono che era una cazzata, che era una roba per ragazzini. Uno l'altro giorno ha definito uno strumento per donne, pittori e artisti. Rap Rap è una stampata tridimensionale che stampa file di progetti tridimensionali in oggetti veri. Con dei programmi come ad esempio Google SketchUp che si trovano anche liberamente sulla rete è possibile disegnare delle forme solide, prendere queste forme, farle entrare nel cervello della macchina che con l'estrusione di questo filo di plastica viene fuori l'oggetto che abbiamo disegnato. Il tutto viene governato da un microcontrollore Arduino nella fattispecie. Ho cominciato a sentire i primi che lavoravano sulle prime Rap Rap che usavano Arduino, che ci facevano delle domande, che ci chiedevano ma quando è che esce un Arduino con più memoria perché siamo arrivati un po' a tappo? Ho cominciato a sentire un po' a tappo? Posso immaginare che a un certo punto le stampanti 3D diventeranno una cosa come la stampante dell'HP che vai a comprare dal Media World, ti compri la stampante 3D dal Media World, poi ti compri le cartucce con la plastica e ti stampi le cose. Thingiverse.com è un database di oggetti tridimensionali pronti da stampare o da laserare. Come tu nei progetti open source ti scambi i file di software, lì ti scambi gli oggetti tridimensionali. Prima di partire per New York mi serviva un aggeggio per fissare il mio telefono su un cavalletto per usarlo per girare una piccola intervista. Vado lì e faccio Galaxy Nexus Tripod Mount, invio, boom, 5 file, ok, questo mi sembra più figo, tuc. Scienziati di altre discipline vedono come funziona la stampante 3D e cominciano a pensare ad altre cose, c'è uno che sta facendo la stampante 3D che stampa la carne. Craig Venter parlava di una specie di stampante 3D dove però tu hai tutti i pezzi di DNA dentro la stampante, tu gli dici che DNA vuoi creare, lui brutti fabbrica la catena del DNA di quello che ti serve. La mia stampante l'ho lasciata a Torino e adesso la devo andare a recuperare. Una azienda di Cuneo ci ha dato una macchina al taglio laser che non ha il laser, è molto vecchia, ha l'elettronica che è andata e adesso la rimetteremo a posto mettendoci dentro l'Arduino 2. Una fresa a controllo numerico, una model AMDX40, la stampante 3D che abbiamo rilevato dal precedente Fab Lab. Questo posto qua che sarebbe l'officina Arduino che ospita il Fab Lab di Torino è aperto da metà febbraio. Adesso offriamo ai designer che stanno qui a Toolbox o agli smanettoni o magari a persone che vogliono avvicinarsi al mondo del fabbing la possibilità di sfruttare le macchine che mettiamo a disposizione della gente. Questo è il Fab Lab. Questa qua è un'altra stampante 3D che abbiamo regalato a un nostro amico e gliela stavamo sistemando, è la Solidoodle. Questa qua è la macchina al taglio laser ed è quella che permette di tagliare questo tipo di basette per esempio. Sono le basette che mettiamo dentro lo Starter Kit di Arduino. Questo è lo Starter Kit. È tutto spiegato senza dare per scontato nulla, si spiega proprio tutto dalla Z in un modo molto molto semplice in cui abbiamo voluto anche noi dare il nostro contributo al movimento dei makers dando un po' la base per iniziare a muovere i primi passi con Arduino. You don't really own it if you don't open it. Uno degli slogan del movimento dei makers è questo. E questa curiosità di aprire le cose, di sollevare il coperchio, di vedere cosa c'è dentro è una roba che va secondo me, come dire, piantata nel discorso. L'innovazione non deve avvenire per forza sulle tecnologie avanzatissime perché Arduino è una tecnologia, cioè te lo dico, il circuito di Arduino è tecnologia dell'ITIS. Cioè se tu fai l'ITIS sai disegnare Arduino. Tramite Arduino abbiamo realizzato un'interfaccia per convertire i dati analogici in uscita dal sismografo in formato digitale per poterli memorizzare sul computer. Abbiamo potuto rilevare le scosse sismiche degli studenti durante l'intervallo, durante l'una, quando tutti escono dalle aule. Questo che vedete qua dietro è il mio laboratorio in cui io faccio tutti i miei progetti sia con Arduino che senza. Ma qui dentro ho costruito un mixer, tre amplificatori, casse quelle grosse per l'impianto, casse un po' più piccole, adesso sto lavorando a un subwoofer. È la mia Arduino mega personale che ho acquistato l'anno scorso dopo aver fatto il progetto con il sismografo, dopo aver già iniziato un po' a conoscere Arduino. e ho deciso di acquistarla per studiarmela un po' come funziona, quali progetti ci si possono fare per conoscerne meglio le potenzialità. Ci sarebbe un grande progetto che sarebbe fare un controllo elettronico automatico di tutte le luci nell'impianto che ho. Musica a palla, le casse tirate quasi al punto di crisi, luci sempre in funzione. Musica a palla, le casse tirate quasi al punto di crisi, luci sempre in funzione. Musica a palla, le casse tirate quasi al punto di crisi, luci sempre in funzione.